13 ottobre 2024, ventottesima domenica del tempo ordinario nell'anno liturgico B. Il Vangelo è quello di Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare. «Onora tuo padre e tua madre!» Egli allora gli disse «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo chiamò e gli disse «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi!» Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio!» I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio!» Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro «E chi può essere è salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio!» Pietro allora prese a dirgli «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e te abbiamo seguito!» Gesù gli rispose «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, o campi per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto, in case e fratelli e sorelle, e madri, e figli, e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore Mi confronto con il Vangelo appena ascoltato soffermandomi su tre frasi La prima, che cosa devo fare? Più una persona si avvicina a Dio, più gli sembra di non meritare tutte le grazie che gli vengono concesse e si pone la domanda su come possa migliorarsi Rifletto, quale cammino di discernimento sto facendo nella mia vita di fede? La seconda frase Vendi quello che hai e dallo ai poveri Spogliarci di tutto ciò che ci è superfluo e dallo ai bisognosi Questo è quanto ci chiede il Signore Rifletto, aiuto chi si trova in necessità? La terza frase Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito Gli apostoli di allora, come i presbiteri di oggi, hanno lasciato tutto per seguire il Signore Ai fedeli non è chiesto di lasciare tutto ma dare una chiara testimonianza di fede nel loro vivere quotidiano Rifletto, qual è il mio impegno nella trasmissione della fede? L'angolo della spiritualità ci offre una lettura tratta dai discorsi di Sant'Alserm Dal nome, o Vergine, per la tua benedizione è benedetta ogni creatura O donna piena e sovrabbondante di grazia Ogni creatura riverdisce, inondata dal traboccare della tua pienezza O Vergine benedetta, e più che benedetta Per la cui benedizione ogni creatura è benedetta dal suo creatore E il creatore è benedetto da ogni creatura A Maria Dio diede il figlio suo unico che aveva generato dal suo seno, uguale a se stesso e che amava come se stesso Ed a Maria plasmò il figlio, non un altro, ma il medesimo in modo che secondo la natura fosse l'unico e medesimo figlio comune di Dio e di Maria Dio creò ogni creatura e Maria generò Dio Dio, che aveva creato ogni cosa si fece lui stesso creatura di Maria e ha ricreato così tutto quello che aveva creato e mentre aveva potuto creare tutte le cose dal nulla dopo la loro rovina non volle restaurarle senza Maria Dio dunque è il padre delle cose create Maria, la madre delle cose ricreate Dio è padre della fondazione del mondo Maria, la madre della sua riparazione poiché Dio ha generato colui per mezzo del quale tutto è stato fatto e Maria ha partorito colui per opera del quale tutte le cose sono state salvate Dio ha generato colui senza del quale niente assolutamente è e Maria ha partorito colui senza del quale niente è bene Davvero con te è il Signore che volle che tutte le creature e lui stesso insieme dovessero tanto a te Buona settimana a tutti